Riccardo Guarnieri beccato con un'altra donna ma non è Ida Platano l'addio di Ida Platano a Riccardo Guarnieri è solo la punta dell'iceberg di quello che è successo a uomini e donne ma attenzione nulla da fare per Ida Platano e Riccardo Guarnieri due volte di uomini e donne hanno tentato il ritorno di fiamma e abbiamo visto proprio in trasmissione più volte i trascorsi della loro storia e il tempo non sembra però aver aiutato né Ida né Riccardo continuano ad avere lo stesso atteggiamento di prima come gli stessi scontri che c'erano un po' di tempo fa dopo la cena di coppia che hanno provato a concedersi due hanno litigato nuovamente poi c'è stata la reazione proprio di Ida Platano documentata da Nova News 24 nello scorso articolo la quale ha visto proprio Ida in una crisi una crisi proprio abbastanza pesante ma le registrazioni di uomini e donne si sono concluse ormai da una settimana la dama e il cavaliere sono usciti separati dal programma e proprio Riccardo Guarnieri viene paparazzato con un'altra donna ma scopriamo di chi si tratta si tratta di una semplice amica o di una parente di Bari questo non lo sappiamo però la foto che vi facciamo vedere proprio ritrae Riccardo Guarnieri insieme a un'altra donna potrebbe essere chiunque il web ovviamente si scatena su questa notizia e Ida Platano ovviamente ha tutto da ridire anche lei sui social intanto la segnalazione sopra citata stona con la dichiarazione d'amore fatto proprio da Riccardo Guarnieri nell'intervista con Cessa Uomini e Donne in magazine il cavaliere dice chiaramente che la sua ex compagna è ancora oggi la sua donna ideale quindi ancora Riccardo sembrerebbe voler il ritorno con Ida ma purtroppo non è quello che si evince da quello che dimostra proprio in studio intanto c'è pure dall'altro lato l'intervista di Verissimo di Ida Platano che avete visto tutti la quale viene addirittura dichiarato che lei è ancora innamorata persa di Riccardo cosa succederà tra i due sicuramente lo rivedremo a settembre intanto i due si stanno concedendo ovviamente qualche momento di relax con relative uscite chissà tra amici o non se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24 Grazie a tutti Grazie a tutti